cosciale tattico vegetato zainetto andiamo a vedere questo cosciale zainetto che in cordura vegetata cordura molto resistente cucita ben bordata ha delle chiusure con dei fastex molto rapidi e veloci sotto troviamo un passante che per regolare l'apertura in base al carico e sul retro vediamo che ha una rete antisudore traspirante lateralmente troviamo due taschine chiusa velcro una e due sopra una cerniera lampo che tramite la quale si può accedere a tutto questo vano che parte da qui arriva qua e facente parte della copertura all'interno ecco vediamo a una una bordatura con cursore polimerico per chiudere per non perdere gli oggetti e qua troviamo una tastina e un altro un'altra apertura con una tasca più grande chiusa da cerniera lampo pratico essenziale da moto bicicletta da bosco tattico sul gibernaggio sulla buffetteria è sempre comodo date le sue modeste dimensioni e la sua compattezza e anche molto versatile perché tramite questa cinghia lo si può portare a tracolla allungandola oppure si può sganciare qui togliere questa parte agganciarla qui questa si allunga e si mette in vita poi volendo si può aprire questa parte interna mettere questa parte che abbiamo tolto prima allargarla alla bisogna e agganciarla alla gamba per cui diventa zainetto con cosciale altrimenti possiamo sganciare questa parte possiamo sganciare questa parte agganciarla qua quest'altra agganciarla qui poiché è tutto compatibile regolare la ovviamente alla misura adeguata in base alle proprie spalle in questo modo diventa un comodo zainetto di piccole dimensioni ma pratico utile per mettere quegli oggetti che volete portare con voi senza caricarvi di peso eccessivo 3 modi di indossarli si chiese controllo Grazie a tutti